Pronto? Benito Ghizu Deve essere un italiano allora Si, è italo-americano Il direttore c'è? No, è uscito e ha detto che tornerà fra un quarto d'ora Va bene, allora richiamiamo signora D'accordo, cosa gli dico che richiamerete? Si, che ha chiamato la hit parade di Leil Lutazzi ma lui non lo sa Grazie, buongiorno Pronto? Hello, Billboard American Studio Ecco, Billboard Where are you? Cioè dove sei? Where is Los Angeles? Los Angeles, yes, Los Angeles Ecco, mi può passare il direttore? The director? Pronto? Pronto? Pronto, non ho capito Dunca sa, è il nostro best, Phil Collin No, no, aspetti, non l'ho ancora cominciato Lei è il direttore di Billboard? Si signore Ecco, mi può dare la posizione di Francesco De Gregori nella vostra classifica dei top 100? Dunca sa, a barra pago pago Francesco De Gregori ma sa nato dunca sa E noi lo teniamo esattamente a costato Delton Jones Ah, è praticamente avvicinato a Delton Jones Un attaccato, lo sa giù mai, un presuasa Si, ho capito, ma è l'ottavo o la settima posizione? No, este è Bindighi Bindighi? Bindighi? No, no, è molto più su, che Bindighi No, sei finato del Bindighi No, ah, no, hai ragione Este è Noe Noe, sei nono Sei nono Questo dovrebbe far piacere, credo, ai discografici Ma anche a Francesco che è qua Comunque, no, sono andato in macelleria a comprare cosa, compresa E non che via prima, ma ha scricato prima due Vabbè, ci deve essere un problema Lei è veramente il direttore? Sono il suo direttore, sì Eh, adioso Adioso Ecco Ma sono vere queste classifiche E non l'ho appena detto, sono verissime Sono verissime Ma a me non mi sembrava molto plausibile Che cosa? Il direttore di Billboard No, quello in effetti devo dire che ho qualche dubbio anche Sembrava una sola